Ciao creatura, io sono Ecte Splendente e benvenuta, bentornata nel regno di Cosa I, I, S, M, R. Se mi vedi di lato è che sto tentando di non prendere il riflesso della luce, quindi ho tutti i video a lato con gli occhiali, perché qualcuno si è lamentato anche del fastidio del riflesso della luce, allora proviamo ad accontentare anche queste persone. E quindi adesso i video con gli occhiali saranno effettuati a lato, che è l'unico modo per non avere il riflesso. Comunque, questa sera ti porto una collaborazione fantastica con Cikyo, dovrebbe essere la pronuncia giusta? Questa è il packaging, un brand di profumo, cioè guarda solo il packaging, che carino che è. Mi hanno fatto scegliere tra due profumi differenti, potevo scegliere tra Forest Child oppure Mountain Rain e indovino cosa ho scelto, creatura. Ho scelto ovviamente Forest Child perché la presentazione che adesso andrò a leggerti è più accattivante secondo il mio punto di vista, il sito è interamente in inglese. Adesso tu lo sappia, creatura, che io sono un amante, amante, amante dei profumi e quando mi hanno dato questa possibilità l'ho accettata immediatamente, perché poi Forest Child e Mountain Rain, wow. Allora, dimmi nei commenti tu quale avresti scelto dalla presentazione, ti leggo entrambe le presentazioni dei profumi e poi anche le fragranze. E poi nei commenti mi dirai quale tu avresti scelto in base a queste descrizioni, poi andiamo ad unboxarlo insieme. Mi dimentico di stare a lato, comunque andiamo ad unboxarlo insieme e a sentirlo, vabbè io lo assento poi cercherò di descrivertelo. Ti leggo la presentazione di Mountain Rain, questo profumo tra ispirazione dal design dei templi taoisti cinesi e dal legno di sandalo. Dopo la pioggia in montagna, sul lato meridionale del tempio, un giovane pastore si appoggia ad un muro, accudendo i suoi buoi, facendo una pausa per leggere. Questa è l'ispirazione, questa scena evocativa è stata trasmessa al profumiere come punto di partenza per creare insieme l'intero paesaggio forestale e la profumazione Mountain Rain. E invece per il profumo Forest Child, questo profumo è stato progettato con un punto di partenza di purezza e una sensazione di freschezza al mattino in mezzo a rigogliosi boschi verdi, bambini che giocano spensierati. Cioè quale potevo scegliere, scusate, inclinazione questa, quale potevo scegliere creatura se non questo, il nostro obiettivo era catturare l'essenza del carattere utilizzato nella nostra fragranza. Adesso sarà tradotto un po' così, però al mattino, chiudi gli occhi, al mattino in mezzo a rigogliosi boschi verdi, bambini che giocano spensierati, cioè non potevo non scegliere questo, scusami, creatura. Allora, Forest Child come fragranza, uno scelto, arancia, black pepper, pepe nero, violetta, lang lang, ginepro, quando ho letto ginepro ho detto Abbiamo un vincitore, vetiver o vetiver, che ho visto non c'è traduzione in italiano, tabacco, sandalo e ambroxan, che ho letto è ambra grigia. Poi ci dice, come altre informazioni, il nostro profumo è per le persone che perseguono la vita con perspicacia e capacità artistiche Ma diceva la stessa cosa anche di Montanerain, quindi non ho scelto in base questa frase Poi, altre informazioni del sito Questa fragranza legnosa e fresca è pensata per coloro che sono spiritosi, puri e innocenti Il suo profumo combina la freschezza del legno verde con la chiarezza del vapore acqueo Facendo sì che le persone abbassino naturalmente la guardia e sviluppino una passione per esso Perfetto per coloro che apprezzano le fragranze semplici e fresche Che mirano a esprimere il proprio stato d'animo, rilassato Sto controllando il riflesso E il proprio atteggiamento positivo attraverso il profumo Questa fragranza è adatta a varie occasioni Sia negli incontri sociali che nella vita quotidiana Aggiunge un tocco di freschezza e vitalità a ogni tua giornata Portando un senso di tranquillità e gioia Cioè, dobbiamo annusarlo immediatamente Non solo cattura l'attenzione degli altri Ma trasmette anche la tua personalità positiva e allegra Ah, esattamente, l'odore dei gemelli Perché dava in base al profumo dei segni zodiacali E nessuno dei due aveva d'oro Quindi, non ho potuto neanche dire Ah, questo è il mio segno zodiacali Invece, niente, perché Allora, Monta Irene aveva scorpione e capricorno Invece Forest Child ha gemelli, bilancia, ariete e sagittario Toro non c'è Il mio non c'è Vabbè, vabbè, a niente Cicchio Cicchio, Cicchio, Cicchio Leggiamo un po' Il riguardo Chi sono Credo si pronunci così Poi non sono neanche sicuro al 100% Cicchio È un marchio artistico Nato a Shanghai nel 2020 Il team è composto da designer Scrittori Profumieri E registi Che credono fermamente Che l'hardworkismo Sia importante Poi dà un significato Al brand Cicchio Che sicuramente L'ho pronunciato male Perché io non ho Non so il cinese Per esempio Dice che la traduzione letterale È andare nel luogo Dove ci sono alberi Ad alto fusto Giustamente Anunciato a me Per la collaborazione Perché si parla di alberi Mi sembra adeguato Pertanto significa In luoghi con alberi Ad alto fusto Poi dice che Collabora con profumieri Cinesi Locali Per creare Fraganze In linea Con la filosofia Del marchio Mira a fornire Agli artisti Un mezzo Di comunicazione Attraverso i prodotti Inviare Invitando Participali All'attività Di Cicchio Cicchio Allora Perché effettivamente Dicevo Qui dice Cicchi C'è scritto anche Brand name Scritto Che è scritto così Scusa E sul sito Dice Canby Può essere pronunciato Shukio O Cicchio Adesso non so Se è shu Perché è s-h-u-h Si pronuncia shu Non so Però C Credo che è g H E sia g Quindi Cicchio Cicchio Dove potrebbe essere Non lo so Se qualcuno Sa il cinese Mi scriva Per favore Comunque Il packaging È molto carino Molto Da anime Molto manguso Non da manga Da manga Non da mango Mi piace molto Infatti Penso che lo colorerò In un video ASMR Così Tipo Sai quelli che faccio uscire Tipo A Sabato No Alla domenica Che non si guarda nessuno Pochi pochi E penso che farò Una cosa del genere Se tengo la testa così inclinata Non si vede Sembra una psicopatica Sembra una seroguila Thank you my friend Musicista Musicista Scrittore Fashion designer Pittore Fotografo Che bella Bellissimo Per confezione esterna Bellissimo Andiamo ad aprire L'apro adesso Per la prima volta Con te Lo sonnino Dice De parfum De parfum De parfum De parfum De parfum Allora packaging Già Partiamo bene Tutto nero Andiamo ad aprirlo Riesco già A sentire Un profumo Molto buono In particolare Confessione rubida Confessione rubida Confessione rubida Ok non riesco più ad aspettare Devo assolutamente annusarlo Ok No c'è il tappo, il fatto di niente luce nera, che non so se ho un tipo di legno, no? Andiamo da bene. poi c'è questo cartoncino e dice, hero in your characters non so se si vede perchè c'è la luce super mega sparata è nero con tutti i glitter, molto fancy slay allora, spero di non spandere tutto all'interno si presenta così con il tappo qui luce nera e qui, c'è il nostro... THE PARFUM aram chiquio 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 sperando che lo sto pronunciando giusto qualcosa che ho già sentito questo è il tappo con anche l'incisione che ho sul il pinup io che sto tutta inclinata per non fare riflessi sembrerò una pazza questo è il profumo mamma mia un profumo buonissimo io l'ho già sentito comunque l'ho già sentito da qualche parte credo sia il mio profumo questo cioè è il mio profumo questo non sto scherzando il profumo che stavo cercando mamma mia lasciamolo lì un po' perché adesso si è spruzzato però bisogna vedere perché poi sulla mia pelle avrà un profumo una profumazione differente che da qua perché qua è buonissimo adesso bisogna vedere se sulla mia pelle è la stessa cosa perché appunto ogni pelle assorbe e trasmette una profumazione differente perché dipende dal pH e tante cose dagli ormoni da tante cose insomma la profumazione è una profumazione ha una profumazione deliziosa ecco infatti su di me è diverso allora dalla confezione ha una profumazione molto più sulla mia pelle cambia sempre la profumazione tende sempre a essere più dolce anche quando indosso profumi da uomo sulla mia pelle diventano altre profumazioni diventano dolci da donna si vede che ho gli ormoni sparatissimi ho i feromoni va bene riconosco il sandalo il tabacco si sente c'è un e la violetta si sente un sacco la violetta anche l'arancia allora sulla mia pelle si sente un sacco questo profumazione quando lo respiro dietro qui alle narici sento un sacco l'arancia la violetta perché è molto dolce il lang lang il lang lang che non so bene come si pronuncia si sente anche la nota di pepe nero secondo me e poi il sandalo si sente che a me non piace tantissimo il sandalo però purtroppo c'era sia di qua che dell'altro quindi ho scelto quella che mi piaceva di più andiamo a leggere gli ingredienti diciamo la profumazione che non cambiava tantissimo diciamo che ho scelto per il ginebrio perché è una pianta che per le streghe è importante cioè per me perché è una pianta che viene usata per la protezione quindi quando ho letto ginebrio ho detto ok ho scelto mountain rain mandarino pompelmo pepe nero legno di cesaro legno di sandalo iris e vetiver l'ambra il muschium anche questo non è male però di là c'era il ginebrio e quindi poi la presentazione di forest child forest child in modo più mountain rain siccome in veneto quando piove si dice sta da freskin mi dava le freskin vibes e quindi non l'ho scelto sta da da incenso si sta da incenso sulla mia pelle io amo l'odore dell'incenso quando mi capita di andare a delle cerimonie di solito ai funerali in chiesa che ci danno dentro con l'incenso io sto lì così buonissimo me lo respiro tutto è buonissimo quindi ha questa profumazione immagina l'odore dell'incenso però con una nota molto dolce quindi è questo che mi ricorda perché se avessi da violetta misto incenso e violetta direi che schifo poi ho qualche nota pungente del bebe ho qualche nota pungente del bebe mi piace è molto particolare questo qua sicuramente se ti fai la doccia come fanno alcune donne che praticamente passano e lasciano la scia secondo me la gente si gira a guardarci perché è una profumazione molto molto particolare e io essendo una persona particolare ci sta che buono mi piace sempre di più sulla mia pelle sulla confezione ha una profumazione diversa ovviamente poi bisognerebbe provarla siccome è un profumo unisex bisognerebbe provarla anche su qualcun altro magari un uomo per sentire la differenza perché sicuramente su un uomo si sentirà di più il tabacco il legno di sandalo il pepe nero queste profumazioni più mascoline più da testosterone invece da me si sente la violetta la violetta il ginebbro il lang lang i tutti i fiori si sentono di più l'arancia perché il pH del il pH della pelle di una donna è più 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 testosterone mi farà sentire delle notti di tabacco sicuramente più accentuate vabbè io amo i profumi credo che il senso più sviluppato che ho è l'olfatto perché per esempio posso dirti se pioverà oggi si sa guardare al meglio dall'odore per dire o se nevicherà anche ma è veramente molto perché ho scelto quello la fragranza le fragranze che mi ispiravano di più che c'è stato prima di di effettore non è che ho detto no si il primo il primo nome prendo quello sono stata lì a leggermi il sito come al solito a dire sì questo potrebbe sì quale potrebbe essere il più il più buono per me anche se devo essere sincera sarei curiosa di annusare il montainlin perché comunque il pompelmo questa nota amara avrei voluto annusare il pompelmo è un profumo molto buono mandarino non tanto però hanno messo arancia mandarino quindi legno di cetro legno di sandala non mi piace tanto iris lampel muschio vabbè muschio classici bagnoschiumi mi vengono in mente col muschio muschio bianco di solito di là anche mi piaceva l'idea che ci fosse il tabacco molto non si trova spesso come profumazione di solito è più una cosa maschile ma so perché è proprio una cosa forte è stra buono è stra buono cioè me lo userò tutto il giorno sui cifti vorrò sapere anche quanto dura e io questo lo userò sempre perché adesso dimenderà allora io tutta l'estate ho usato l'acqua profumata al cocco ma questo inverno userò questo abbinato all'acqua profumata al cocco perché l'acqua profumata al cocco mi piace spruzzarla sui capelli ma questo lo spruzzerò sulla mia pelle tra l'altro c'è pure il tappo separato quindi dovrò tenerlo fuori dalla scatolina c'è pure qui in Gisogchikyo il packaging è molto raffinato studiato nei minimi dettagli facciamo un po' di trigger poi ti saluto che adora attenzione a questi a una certa mi sono persa ero troppo inebriata della profumazione quindi non ho più guardato se ho fatto riflessi mi censurerò mi sarò un gatto mamma mia io l'ho già sentito comunque addosso qualcuno una fragranza simile perché mi ricorda qualcuno mi ricorda una persona che non so chi sia ma mi ricorda qualcuno senti anche bel tapping mi sono fatta le unghie mi sono fatta le unghie mi sono fatta le unghie vorrei che tu mi lasciassi un like e un commentino creatura tu quale avresti scelto mountain rain o forest child non farti influenzare dalla mia scelta ovviamente scegli in base alle tue vibes ok spero che questo video ti sia piaciuto io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura ciao 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 ciao